Senti Fabrizio, tu poco fa mi parlavi delle tecniche ma soprattutto della capacità di capire come una persona deve innanzitutto prima eventualmente di ingaggiare uno scontro capire dove si trova e come può eventualmente agire. Ma ti domando, immagino che ti sarai imbattuto magari in famiglie che dicono eh no però mio figlio ha 7 anni, ha 8 anni, è uno sport violento e quindi le arti marziali non gliele faccio fare. Invece perché è importante e utile soprattutto che i ragazzi e i bambini possano sperimentare l'uso delle arti marziali? Eh questo è un argomento molto delicato, sì purtroppo mi sono capitate persone, genitori che mi hanno confermato, detto che le arti marziali, gli sport da combattimento sono violenti. Però io sono dell'idea che, allora partiamo dal calcio perché è lo sport nazionale, io credo che sia più violento il calcio che il nostro sport. Ma più che altro perché nel calcio non ti aspetti una persona che ti arriva da dietro e magari ti rompe i legamenti. Qui i colpi che arrivano sai che ti arrivano, quindi impari come non farli arrivare o impari come schivarli, quindi impari comunque a incassare e sai quello che succede. Sai che ti può arrivare i pugni, sai che ti possono arrivare i calci, sai che ti possono portare per terra. In altri sport, ma ripeto questo è un esempio del calcio, io amo qualsiasi sport perché fortunatamente esiste lo sport, meno male. Il problema è che si reputano violenti perché uno pensa che si impara poi a combattere in strada, ma non è così. Una persona che acquisisce, soprattutto un bambino che acquisisce le capacità tecniche e le capacità di poter sfogarsi, non lo fa più in strada. Un bambino invece che magari non ha la possibilità di sfogarsi, di sfogare la propria rabbia, di sfogare le proprie frustrazioni, le proprie qualsiasi cosa, poi deve trovare il modo. E se non lo fa in palestra, lo fa in strada. Senti, una cosa che secondo me è molto importante è il fatto che i bambini imparano quando stanno in palestra che intanto ci sono delle regole. E che, come dicevi tu prima, nelle regole della vita sai che puoi essere messo per terra, sai che potresti essere messo nelle condizioni di dover incassare o di dover eventualmente schivare. Cioè, l'ingaggio eventualmente di una simulazione di confronto, di scontro, ti insegna delle regole di vita. E quindi l'uso delle arti marziali non è soltanto uno sfogo fisico, è anche un apprendimento mentale, no? È proprio un modo di essere. Impari a capire che nella vita ci sono delle condizioni che devi imparare a gestire, o no? Assolutamente sì. In questi sport, comunque in queste arti marziali, qualunque arte marziale essa sia, perché ripeto, qualsiasi arte marziale va benissimo. Tra l'altro tu fai, scusami, quante arti marziali metti insieme? Perché tu fai anche le arti marziali mixate, cosiddette, definite, giusto? Che si chiamano esattamente? MMA, arti marziali miste. Ecco, arti marziali miste mette insieme quanti tipi di arti marziali esattamente? Allora, le arti marziali miste mettono insieme soprattutto lotta in piedi, quindi lotta olimpica, lotta greco-romana, lotta a terra, come giugizzo brasiliano, grappling, submission, e poi la parte dei colpi, quindi dalla Muay Thai alla box, alla kickboxing, tutto questo, tutte le tecniche finalizzate all'MMA. Tra l'altro, per esempio, il sottoscritto ho fatto per molti anni, Taekwondo, tu impari quando fai un'arte marziale come il Taekwondo ad avere un certo tipo di difesa, metti la posizione in modo tale da garantire che non sia colpita tutta la tua parte del corpo, cioè la testa e il petto. Mentre invece tu mi dicevi, il tipo di arti marziali che fai tu ti insegna che devi proteggere tutto il corpo, quindi già l'approccio è diverso, perché qualunque parte del tuo corpo potrebbe essere come poi accade nella vita, se ti aggrediscono non è che ti prendono soltanto in A, possono anche decidere di colpirti in basso e magari tu non te lo aspetti. Come insegni ai tuoi ragazzi e alle ragazze a difendersi in questa tipologia di casi? Beh, allora, mettiamo comunque una differenza che è quello che succede in strada, succede in strada, in palestra siamo comunque in una zona di comfort, quindi qualunque difesa personale in palestra si è tranquilli. Però nell'MMA si insegna la parte in piedi, la parte di percussioni e la parte a terra. Noi principalmente che siamo un'accademia di MMA, di arti marzialimiste, come Legio Steam, abbiamo lezioni proprio specifiche di parte di, si chiama striking, quindi parte di colpi, lezione di parte a terra, lezione di parte in piedi e poi una lezione che raggruppa tutto. Quindi è proprio una scienza, è proprio una tecnica, non solo per la parte in piedi, ma per tutto. Inoltre, chi si combatte con i guantini, quindi non si combatte con i guantoni, quindi devo stare attento veramente alla distanza, alla percezione non più del guantone che magari mi copre il più il viso, ma il guantino è come se fossi a mani nude. Devo stare attento alle gambe, devo stare attento a tutto, a 360 gradi, quindi anche, soprattutto perché si combatte in gabbia, quindi c'è anche tutta la parte a parete. E quindi è come se fossi una difesa personale, per questo che dico, nelle arti marzialimiste veramente è completo, anche perché magari a differenza di altre arti marziali, nell'MMA proprio è tutto subito, tutto funzionale, quindi io devo stare attento a tutto in una frazione di secondo. L'ultima domanda te la faccio sul ruolo che oggi interpretano le donne, no? Una volta ti dicevano che le donne sono il sesso debole, oggi le donne hanno imparato a menare anche di più. Quindi mi racconti tu che percezioni hai del mondo femminile quando lo vedi in una condizione di addestramento, di scontro fisico? Allora, è ovvio che la forza di un uomo è comunque un po' di più della forza delle donne, perché è naturale, ma se la donna conosce veramente bene la tecnica, l'uomo ha poco da dire. Fortunatamente, ripeto, come ho detto prima, si sta arrivando a un livello tale che anche le donne stanno veramente intraprendendo un percorso esponenziale, soprattutto nel giugizio brasiliano, ma anche nell'MMA. Cosa che alcune donne veramente possono competere con gli uomini e non c'è nessun problema, anzi, sono più in pericolo gli uomini. E questo fa solo che piacere anche perché rispetto a prima che erano un po' più di nicchia, quindi magari solo per uomini, adesso nell'allenamento si può confrontare anche tranquillamente sia uomo che donna. Allora, a chiudere, ricordiamo dove i ragazzi e le ragazze possono trovare la tua palestra, dove si trova di conseguenza e come possono eventualmente iscriversi alla tua palestra per venire a provare, ripeto, una disciplina che trovo veramente affascinante. E soprattutto mi piace molto l'approccio, chi ha avuto la fortuna di poter fare delle attività marziali sa che avere un maestro che ti insegna ad avere cognizione di quando lo scontro può essere accettabile, di quando eventualmente no, di come si deve agire in certe condizioni è un elemento essenziale. Maestro, dove ti trovano i ragazzi? Maestro è una parolona però. Allora, noi siamo a palestra Academy of Fighting in via 5 maggio 11 a Milano, zona Certosa. e ci trovate anche come Leggios Team Milano, quindi ho la pagina Facebook, pagina Instagram, potete trovarci ovunque sui social. Vuoi lasciare anche un numero di telefono eventualmente, se ce n'è? Sì, 334-940-4129 e io sono Fabrizio. Ok, allora ragazzi, vi aspettiamo qua, magari poi se qualcuno di voi si iscriverà, vediamo magari di venire a fare anche qualche ripresa per farci raccontare direttamente da voi che cosa ha significato stare accanto a Fabrizio. Assolutamente, grazie. A te.